Presidente Di Camillo, torna il grande volley in Abruzzo, è tutto pronto lo possiamo dire per Italia Slovenia? Sostanzialmente sì, adesso si tratta di fare le rifiniture, sistemare l'impianto, proprio di oggi la notizia che arriverà il Tarflex che è stato usato per l'università di Annapoli, per dire quanto un evento del genere alla fine crea un indotto non indifferente anche in termini organizzativi e sicuramente impegnativo, però gratificante. Nove anni fa l'ultima volta della nazionale maschile in Abruzzo. Sì e per questo siamo contenti di essere riusciti a riportarla qui, chiaramente si tratta di un test match, di un amichevole perché gli standard per portare eventi ufficiali a livello internazionale si sono sostanzialmente molto elevati. 5.000 posti. 5.000 posti per un impianto, aria condizionata, altrimenti siamo fuori da quelli che possono essere eventi ufficiali. Però una Slovenia-Italia a Chieti la settimana prima del torneo di qualificazione olimpica di Bari non è un amichevole semplice. Un test veritiero per il sestetto di Blenji. Sì, era stato programmato come ultimo test di verifica, poi in realtà sono state aggiunte ulteriori due amichevoli a Bari contro il Belgio, proprio perché l'evento dal 9 all'11 agosto è troppo importante. Però direi che questa di Chieti è una tappa di avvicinamento molto molto importante. Tra l'altro, Presidente, verrà la nazionale al gran completo, no? Diciamo quanto Rene, diciamo Zeisev, quindi le grandi stelle del nostro volo. Tutti i migliori e devo dire che in questo senso l'Abruzzo ne esce bene perché l'estate così impegnativa della nazionale, che ha visto la Volleyball Nation League e tutti gli altri tornei in cui sono stati impegnati, sono serviti anche per selezionare Oreste Cavuto, che è rimasto nei 12. Quindi avere un abruzzese doc a Chieti è anche questo motivo di orgoglio. Mi ha anticipato un po' l'altra domanda, volevo dire che tra i 12 di Bencini c'era Cavuto, Abruzzo e Sedoc, anche questo è un motivo di orgoglio, no? Molto, ma soprattutto perché è stato chiamato, credo, per giocarsi le sue carte veramente, perché quel ruolo in cui lui gioca ha un'alternativa che può essere, non so, Antonov o uno di questi e secondo me potrebbe diventare un bel titolare. Grazie 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 a tutti